Un'analisi dettagliata per tumori e per distretto è quella fornita dal primo rapporto sui tumori dell'Asla di Salerno, uno strumento importantissimo per avere la fotografia dell'incidenza, della sopravvivenza e dell'ospedalizzazione nella nostra provincia realizzato tenendo conto del periodo di tempo che va dal 2015 al 2019, strumento fondamentale per comprendere quale sia il modo migliore per intervenire attraverso campagne di screening orientate e costruite proprio sulla base dei dati raccolti, dati che forniscono un quadro generale sostanzialmente positivo con tassi inferiori di incidenza nella provincia di Salerno rispetto al resto del sud Italia. Nella stessa provincia ci sono però delle differenze. A nord il rischio è maggiore per alcuni tumori rispetto invece a quanto accade in altre zone del territorio provinciale salernitano, in particolare nel Cilento. I tumori più frequenti che abbiamo riscontrato sono sicuramente nei maschi, al primo posto abbiamo la prostata, al secondo quindi abbiamo il polmone, nelle donne invece primo posto abbiamo la mammella e il secondo con l'oggetto. Il tumore della mammella è un tumore molto frequente, inizia già nella fascia di età di 39 anni in poi e permane anche nelle fasce di età più anziane. È stato inoltre analizzato anche il trend, abbiamo fatto un trend ventennale e in cui si vede chiaramente il dato più significativo è quello di un andamento diciamo divergente del polmone con una riduzione quindi del tasso di incidenza del polmone nei maschi e un incremento nelle donne ed è quello che in effetti registriamo anche a livello nazionale. Così come anche per la mammella abbiamo un incremento quindi del 1,5% della mammella dato che viene registrato anche a livello nazionale. Per entrambi i generi si ha un incremento del melanoma e anche un incremento della tiroide. Questa mappatura ci aiuta ben a capire, a definire le aree, le tipologie, le prevalenze, le diversità anche tra le varie zone della nostra realtà aziendale per cui avere comunque le differenziazioni sia dal punto di vista delle patologie, sia dal punto di vista della loro incidenza, sia dal punto di vista della loro localizzazione, è inevitabilmente un grande aiuto. Il messaggio è un messaggio di cercare di essere vicini alla sanità in questo, aderite alle nostre campagne. Qui l'intervento si deve fare solo in un modo, da una parte collaborare con le strutture anche diciamo convenzionate, con strumenti che identificano un percorso prioritario per alcuni malati in ogni caso e che aumentino chiaramente i posti di assistenza attraverso figure mediche specializzate nel problema che possono essere prese purtroppo anche in termini privatistici.